Le energie in transito sono colori quali effettivamente danno l'infa a tutto il territorio salentino e tutti colori uguali credono nel cambiamento. E' un augurio che faccio a tutti di ricordarvi che a fianco a casa nostra spesso c'è un ospedale che è la stanza di una persona anziana. E' un augurio che faccio a tutti.